cavolo è successo che cosa fai? corrompchino porco schifo guida un attimo questo? ma c'era scritto gonfi e ripara ma qui ne gonfia ne ripara infatti non fa ne uno ne l'altro è uno scant non lo dovrebbe fare mi siamo messi male si ma allora andiamo giù giù e tu la metti dentro qua se tu metti qua la schiuma si esce da qua perchè? perchè non ha un tubeless e non c'ha il quando tu metti tubeless metti un nastro di plastica sotto qualche e beh se me la spazzerà ma poi sei mezzo litro ma se no l'hai messo sotto il buco e ti apre i gonfi non funziona ma va sta barcando di meno però tiene un'attaccata vai vai fai fai no 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 non Devi che ha fioi fai finito con le fara Un quarto d'ora per farlo andare Oh, gonfia però Eh, a quello serve Guardalo Guardalo Tutto Deve gonfiarti La scuola tratta la vecchia No, ma sei No 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 Scusa 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 Devi fare tutto Così Dai io sopra un po' di epoca Sennò non si goffia Eh Qua dentro Il portante No 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 Dai Vas No Dai Vas Il video come facciamo a farlo Ma non aspetta Il video Magari mi ho sbagliato a farlo Non sta gonfiando Con due adasse ho freddo Perché c'è di qua No dall'altra Sta offendo Madonna Wow Bella gonfia Ha cambiato tutto Fa vedermi in camera, ha cambiato tutto Spingo, manca tanto? No